Dopo cento anni la nuova statua della Madonna dell'Angelo donata nel 1923 dall'allora Patriarca di Venezia Cardinale Pietro La Fontana nella città di Caure è tornata per qualche ora a Venezia dopo un corteo aqueo molto suggestivo accolta sul mondo dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia è seguito poi un momento di preghiera in Basilica della Salute e il Patriarca rinnoverà poi la preghiera di benedizione e di consacrazione alla statua fatta cento anni fa nel 1923 appunto dal Patriarca Cardinale Pietro La Fontaine il Patriarca La Fontaine aveva donato questa nuova statua ai Caorlotti i quali avevano subito un furto sacrilego era stata danneggiata e incendiata la chiesa della Madonna dell'Angelo perché alcuni ladri avevano cercato di rubare i gioielli della statua e così facendo accidentalmente avevano dato fuoco alla chiesa la statua è stata accompagnata nel suo percorso dall'arciprete del Duomo di Caure Monsignor Danilo Barrese fino alla Basilica della Salute nel pomeriggio il ritorno in Duomo a Caure con la messa presieduta dal Patriarca Francesco sia questa sera che domani mattina alle ore 9 si rinnova dunque questo legame, questo vincolo spirituale tra il santuario più importante, il santuario mariano più importante del Patriarcato di Venezia che è appunto il santuario della Madonna della Salute e questo santuario locale al quale i Caorlotti sono molto legati sono profondamente legati per ragioni storiche e spirituali che è appunto il santuario della Madonnina dell'Angelo il Patriarca Francesco dopo la preghiera del rosario salirà in barca e accompagnerà se vogliamo la statua nel suo rientro a Caorle e in serata alle ore 19 sul sagrato del piccolo santuario proprio vicino alla spiaggetta il Patriarca Francesco presiderà anche la Santa Messa